È stata la manifestazione ai sentieri mediterranei, come l'è sembrata? Bellissima, è stata una bellissima festa. Ha partecipato molta gente? Uh, tantissima. È la prima volta che c'è questa manifestazione e ne hanno fatte anche altre? Di manifestazione? Sì, no. Qui a Sunmonte. Questa è la tredicesima, però sempre la stessa festa. E altri non ce ne so. E rispetto agli altri anni? C'è la sagra ottobre. Di cosa? Della castagna. Della castagna? Sì. Anche a quella parteciperete? Io personalmente no, però il paese sì. Di solito il paese partecipa molto? Sì, sì, sì. E quest'anno il cantante? C'è stato in Zabitana, ieri 6, e quell'altro giorno c'è stato in due cantanti. Io veramente ho partecipato ad aiutare, quindi non so bene chi c'è stato. Cosinavate? No, i dolci. Cosa preparavate? Tante cose buonissime. Può illustrarsi un po' il menù della serata? C'è stata la pasta alla montanara, poi c'è stata la pasta con zucca e salsicce, e poi ieri sera c'è stata la penna su Montese. C'è stata molta gente che è venuta a degustare? Tantissima, tantissima.